18 febbraio 1930, l'astronomo statunitense Clyde Tombow scopre il nonno pianeta. Il nuovo corpo celeste viene battezzato Plutone, come il dio romano dell'oltretomba. Le iniziali del nome PL sono anche le iniziali di Percival Lowell, lo studioso che per primo ne aveva ipotizzato l'esistenza all'inizio del Novecento. Nel 2006 Plutone viene declassato a pianeta nano dall'Unione Astronomica Internazionale.